bella ragazzi buongiorno come la va giornata di di estrazione giornata di sorteggi che noi seguiremo insieme come vi ho già accennato ieri quindi faremo questo sorteggio insieme e scopriamo finalmente chi gli avversari che incontreremo che giornata sarà intanto vi faccio vedere in sovraimpressione le squadre che sono in champions league che rimangono appunto bayern monaco benfica celsi inter manchester city milan napoli e real madrid sono tre italiane i quarti finali champions league non si vedeva il 2002 2005 2006 dove c'era appunto se non ricordo male inter villareal juve arsenal milan lione per questo appunto c'è grande attesa per questi sorteggi i sorteggi ci saranno anion presso la sede del uefa a partire dalle ore 12 a partire dalle ore 12 di oggi ragazzi alla presenza come sempre del responsabile giorgio marchetti che cosa si va a sorteggiare che cosa si va a sorteggiare non saranno sorteggiati appunto solo i quarti di finali ma saranno estratti anche gli accoppiamenti per le semifinali gli accoppiamenti per le semifinali e ovviamente per e per la finalissima di instable che in programma appunto il 10 il 10 di giugno ragazzi in programma il 10 di giugno le regole a partire da quarti di finale a partire quarti di finale perché poi mi sono scritto le regole come ricordavo il sorteggio sarà completamente libero questo vuol dire che non c'è nessuna restrizione nessuna conseguenza nessun vincolo tranquilli possibile i famosi euro euro derby ovvero gli scontri diretti contro squadra sospese ci potrà quindi essere un sorteggio inter milan napoli intero milan napoli anche nei semifinali le squadre italiane potrebbero essere accoppiate senza nessuna restrizione discorso casa trasferta le regole sarà sorteggiata anche la squadra attenzione che giocherà l'andata in casa e ritorno in trasferta e in questo caso essendo inter e milan dello stesso stadio la sta città e con un unico stadio se entrambi dovesse capitare il ritorno in casa il sorteggio in erazzurri verrebbe switchato fra case trasferte in virtù del miglior piazzamento ero soneri nell'ultimo campionato mi ha metto un nuovo scudetto lo ricordate le date i quarti di finale andrà i quarti di finale andranno in scena con la gara d'andata al martedì 11 e mercoledì 12 aprile mentre le gare di ritorno saranno in calendario il 18 e il 19 aprile le semifinali invece si faranno con gara d'andata 9 il 10 maggio ritorno il 16 il 17 di maggio la finalissima come vi ho già detto sarà comunque il 10 di giugno in tv ovviamente sappiamo che le vediamo le vedremo comunque i sorteggi sto parlando è sky sport e anche il canale 20 ma voi non li guardate perché li guardate con me ok ve li faccio io ve li faccio anche con l'ansia ve li faccio piano piano e niente questo è quanto quello che riguarda novità anche sulle regole eccetera eccetera sarà un'estrazione che ci darà forse un po d'ansia un po di di particolarità vediamo un pochino cosa aspettarci sinceramente ve l'ho già detto io non mi aspetto granché a livello di ansia e solo grande curiosità per capire chi andremo a incontrare quando lo incontreremo qualcuno già si auspica un ero derby io dico quello che arriva arriva chi se ne frega l'importante che l'importante che si faccia questo quarto che si gioca e l'importante soprattutto l'importante perdonatemi e che si scenda in campo con la verve e con la voglia di fare una buona partita perché se mi scendono in campo mollacchioni se scende in campo ciondolone si comincia a ciondolare prendo il primo aereo anzi non so la gioca in casa non prendo l'aereo prendo la macchina vado a san siro e lo aspetto fuori e ne dico quattro perché se fosse euro derby se poi da un'altra parte vabbè le squadre da temere secondo me sono un po' tutte non c'è una squadra che temi di meno una squadra a temere di meno chiaro che in assoluto se vogliamo provare a a fare il miracolo il real madrid sarebbe secondo me da evitare come sarebbe da evitare anche forse forse city sì anche loro anche loro sono forti l'aaland cazzo nell'ultimo nell'ultimo nell'ultima partita ha fatto cinque gol in una sola in una sola partita è assurdo sì secondo me ripeto sono quelle da evitare secondo me espo ditemi la vostra io eviterai sicuramente manchester city real madrid troverei per assurdo più abbordabile il derby e il celsi e il celsi ve lo dico sinceramente perché il benfica gioca forte il bayern monaco non ve ne parlo neanche secondo me il celsi e il bayern e il celsi scusate il e l'inter sono quelle che mi potrebbero dare una vaga speranza di poter provare a fare qualcosa però però con la sfiga che abbiamo secondo me non lo so non voglio dirlo però ho paura che becchiamo qualcuno di forte ma è solo una sensazione vediamo come andrà come andrà a finire ragazzi dai comunque vada possiamo dire la banalità comunque comunque andrà sarà un successo diciamo la banalità comunque vada sarà un successo e saremo tutti felici detto detto questo ragazzi quello che mi premeva raccontarvi è una notizia che mi è arrivata 18 e 20 no 18 dicembre no era questo scusate guarda l'altra cosa perché tanto intanto faccio anche il lavoro mentre faccio mentre faccio i video e era la notizia che mi è arrivata sulle hao attenzione questa mi ha pochino preoccupata ho chiesto a chi mi ha riferito questa cosa di provare a fare un'indagine un pochino più approfondita se riesce a farla se ha tempo perché fosse così si giustificherebbero tante cose praticamente sì e mi è arrivata la voce che praticamente le hao avrebbe già firmato un preaccordo non un precontratto un preaccordo con il blues con i blues con il celsi e non da oggi già da un po di tempo sappiamo che comunque il milan le hao col milan non sta trovando assolutamente la quadra per rinnovo non parliamoci in giro loro vogliono sette e mezzo otto il milan le fermo su determinate cifre le hao vorrebbe dominare la firma poi vorrebbe pagata la clausola ci sono poi difficoltà nel nuovo questo è un discorso palese se fosse vero il discorso che le hao ha firmato come mi hanno detto un preaccordo con il celsi si giustificherebbe il suo atteggiamento assolutamente in campo fino ad ora direi inguardabile e sarebbe l'unica motivazione anche se un professionista amici miei dovrebbe comunque provare a dare sempre il massimo in qualsiasi situazione e invece questo non è non è quello che sembra non è quello che sta sembrando non è quello che è ripeto notizia un po che mi ha lasciato come un fulmine a ciel sereno però era anche c'era anche l'aspettasso a un certo punto di vista è anche è anche possibile plausibile aspettarsi una cosa del genere ormai questo tentativo di rinnovo lo trasciniamo da diverso tempo forse anche più di un anno se non mi ricordo male e arrivare a determinate situazioni poi chiaro che secondo me quando capisci che non c'è trippa per gatti ti guardi intorno ma soprattutto ti guardi intorno se quelli intorno è qualcuno che ti mette sul piatto stipendi ben ben superiori a quello che il milan a fatica potrebbe arrivare perché secondo me al celsi meno di 9 10 milioni a sto qui non gli danno più la più il riconoscimento della clausola più pagamenti le varie cose onestamente lo mettiamo in croce no io lo metto in croce solo per l'atteggiamento in campo poi per me puoi andare a giocare dove cazzo ti pare però fin quando sei al milan dovresti quantomeno impegnarti a fare il tuo dovere poi se il tuo futuro dici tu chiaro chiunque avrebbe ambizione da guadagnare di più chi non lo farebbe chi direbbe che non lo farebbe ipocrita chi chi direbbe che non lo farebbe per l'amore della maglia è assolutamente ipocrita se al lavoro io affrono 2000 2000 euro al mese vi danno 2000 euro al mese già non ci dipende la madonna e arriva uno e ve ne offre 4000 per fare lo stesso lavoro ma d'altra parte è congeniale non penso che qualcuno difficilmente qualcuno potrebbe rinunciare questo è il caso di un ragazzo di 23 anni che ha una vita davanti sportiva e vuole ambire di più ripeto non condanno le sue scelte economiche condanno il suo atteggiamento e penso che anche da questo punto di vista sarete d'accordo con me fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere le vostre attenzioni sullo sorteggio e sul discorso leao vi aspetto dopo noi ci collegheremo già alle 11 50 e poi daremo il via ai sorteggi con l'ansia che farà la padrona io vi auguro buona mattinata sempre comunque forza mila noi sentiamo più tardi e adie grazie a tutti grazie a tutti